E' stato convocato per domani, 8 gennaio, dal comune di Castellabate un consiglio straordinario monotematico in cui si parlerà della gestione idrica della CONSAC che da vario tempo sta creando non poche polemiche tra i cittadini per via delle bollette salatissime di un bene primario. Il consiglio richiesto dalla minoranza ha uno scopo ben preciso, annullare la convenzione con la Società dei Servizi Idrici di Vallo della Lucania. Sulla questione è intervenuto il capogruppo d'opposizione del comune di Castellabate, Alessandro Loschiavo. Il consiglio comunale del giorno 8 gennaio è un consiglio comunale convocato specificatamente dalla minoranza con una richiesta ben precisa, ovvero quella di annullare la convenzione con la CONSAC Servizi Idrici di Vallo della Lucania che gestisce da un anno a questa parte il servizio idrico integrato del comune di Castellabate. Un consiglio che noi abbiamo richiesto il 18 dicembre che trova giusta risposta nella convocazione in sessione straordinaria proprio per il giorno 8 gennaio, un dibattimento, una proposta quella formulata dalla minoranza che dovrà essere dibattuta dal Consiglio ma più che altro dalla maggioranza consigliare e dal sindaco di Castellabate perché questa volta è la minoranza nella sua interezza a farsi promotrice di un'azione, di un atto deliberativo che tende ad annullare questa convenzione, che ricerca un approdo, una realtà, un consorzio idrico che sicuramente avrà dei costi significativamente molto più bassi rispetto alla CONSAC di Vallo della Lucania perché c'è un dato fondante, portante su cui si poggia tutto il ragionamento che la CONSAC esprime le tariffe più alte per quanto concerne i costi dell'acqua, della depurazione e della fognatura. Quindi è un dato oggettivamente incontrovertibile sui quali noi della minoranza e il popolo di Castellabate premiamo l'acceleratore affinché questa società venga espulsa dal comune di Castellabate. Io dico sempre che errare umano, perseverare è diabolico, quindi invito il Consiglio Comunale, il Sindaco, ogni singolo consigliere comunale di maggioranza a prendere le distanze da questa società, a valutare attentamente l'atto deliberativo, la proposta della minoranza che in maniera molto semplice rispettando la legge dà un chiaro indirizzo, una visione precisa rispetto a quello che si vuole fare dell'acqua pubblica, dell'acqua del comune di Castellabate, dell'intero impianto di depurazione del comune di Castellabate. E lo vogliamo fare partendo appunto da un dato molto preciso di eliminare una società che costa tantissimo, a cui dobbiamo dare tantissimo, circa un milione e cento mila euro per la messa in sicurezza, per l'intera impiantistica di depurazione. Allora c'è qualcosa che non va, perché un'amministrazione comunale che è stata in grado di aumentare le tasse sui rifiuti, oggi a far diventare l'acqua un bene di lusso con dei costi quadruplicati, quindi duplicati, pagando la stessa acqua più dell'energia elettrica e del gas, è un'amministrazione a questo punto, un sindaco che verrà ricordato come il sindaco delle tasse, come il sindaco del debito pubblico per i tanti milioni di prodotti di debiti e soprattutto in questo momento questo atto deliberativo, questo consiglio comunale significa tanto per la minoranza ma soprattutto per la popolazione di Castellabate che riuscita proprio grazie ad una grossa onda emotiva a formare un corteo, a scendere fino dinanzi alla casa comunale e sicuramente nei prossimi giorni la troveremo nel consiglio comunale a tifare non per la minoranza, non per il consiglio comunale, non per il sindaco ma perché questo territorio si riappropi della democrazia, della partecipazione e soprattutto l'acqua diventi un bene d'uso comune, un bene primario, un bene accessibile a tutti.